cari amici di fano tv buonasera e ben trovati in questo approfondimento parleremo di un importante progetto solidale voluto dall'organizzazione umanitaria l'africa chiama siamo nello zambia a lusaca dove è stato realizzato e sta comunque prendendo forma piano piano un centro dedicato alla maternità bene l'amministrazione comunale fanese ha adottato questo progetto e quindi sentiamo subito il primo cittadino il sindaco di fano massimo seri buonasera giustamente hai richiamato che l'amministrazione comunale ha sposato da subito questo progetto siamo in un periodo di festività dove la sensibilità è sempre forte viviamo anche un momento difficile però ritengo che una comunità una città come fano debba pensare anche a chi è meno fortunato ormai il mondo è una stanza e ciò che accade dall'altra parte del mondo ha anche delle conseguenze nelle nostre realtà si parla di globalizzazione e io penso che tutti dobbiamo fare qualche gesto di solidarietà vera cercando di aiutare anche quelle popolazioni meno fortunate alla fine una parola brutta ma è anche vera siamo tutti interessati che le cose possono migliorare nel mondo perché tutti ne traremo dei vantaggi dei benefici detto questo come amministrazione abbiamo deciso ogni biennio di sposare un progetto di solidarietà internazionale l'africa chiama è una bella organizzazione della nostra città è un nostro orgoglio negli anni ha fatto tante iniziative di solidarietà vera realizzando tanti progetti questo è un altro di quei progetti che toccano anche le corde dei sentimenti parliamo di un centro nascita e noi sappiamo che nel mondo non tutti i bambini sono fortunati come i nostri figli e quindi non tutti hanno le stesse opportunità dal primo giorno di vita ma anche proprio nel giorno della loro nascita ci sono realtà dove anche quegli elementi più semplici basilari non ci sono questo è un progetto che guarda proprio a questo aspetto e quindi come amministrazione ci siamo resi parte attiva intanto mettendo anche un nostro contributo che abbiamo destinato a questo progetto ma con convinzione con piacere e la cosa che vorremmo che questo progetto lo sentisse tutta la città cioè tutta la città fosse partecipe anche con dei piccoli gesti in questo caso il progetto è già in fase avanzata sono già state raccolte risorse importanti e quindi siamo alla fase finale occorrono anche piccoli contributi anche del materiale ovviamente a quelle strutture sanitarie che ne dispongono quindi ecco come sindaco come amministrazione mi sento di fare questo appello alla città sentiamo questo progetto come il progetto di fano di tutti ognuno di noi può essere protagonista con un piccolo piccolo gesto siamo nel periodo delle festività e allora se possiamo aiutiamo a rendere realtà questo progetto che lo sarà perché proprio siamo nella terza fase quella finale e lasciatemi anche così esprimere un ulteriore ringraziamento all'africa chiama per tutte le attività che ha svolto che svolge che svolgerà grazie sindaco e adesso salutiamo la nostra prima ospite naturalmente per l'africa chiama abbiamo la presidente anita manti buonasera 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 anche tutti i nostri telespettatori allora l'africa chiama sono tante le attività svolte in questi anni attività importanti che cosa fa l'africa chiama nello specifico allora l'africa chiama nasce 20 anni fa nel 2001 con attività rivolte nel settore della nutrizione alimentazione educazione istruzione e inclusione sociale e progetti sanitari siamo presenti appunto da 20 anni in tre paesi del dell'africa subsahariana esattamente in kenia zambia e tanzania attraverso questi progetti siamo riusciti in questi anni a realizzare numerosi interventi concreti e come presentiamo ogni anno nel nostro bilancio sociale lo scorso anno siamo riusciti a raggiungere ben 21.155 persone sono numeri importanti chiaramente e non sono soltanto numeri per noi ma sono persone perché i nostri interventi sono mirati sono sul territorio conosciamo uno a uno i nostri beneficiari quindi per garantire loro comunque i diritti fondamentali insomma la vita all'istruzione alla sanità e quant'altro e per quanto riguarda il bilancio sociale che cosa possiamo dire allora il innanzitutto tutti i fondi raccolti provengono da donazioni da privati da aziende e da progetti un bilancio molto importante quello del 2019 che si è chiuso con un totale di lo leggo perché veramente un numero grande 1.270.348.000 euro una cifra per noi importante ed è importante rendicontarla in maniera trasparente ogni singolo euro viene devoluto per i progetti il 91 per cento quindi significa che se una persona ci dona un euro 91 centesimi vanno in maniera definitiva e concreta a sostenere il progetto in tutti i paesi abbiamo continuato a lavorare a fianco a fianco della popolazione delle comunità ci siamo inseriti in maniera delicata nel settore sociale un settore che è molto complicato con delle dinamiche sociali chiaramente difficili per mancanza di strutture igienico sanitarie mancanza di scuole sono i servizi di base quindi in questi anni che cosa abbiamo fatto abbiamo cercato di conoscere la comunità locale e ci siamo inseriti lavorando a fianco cooperando insieme a loro e così per esempio in Zambia che siamo presenti già dal 2007 abbiamo iniziato la costruzione in un lotto in un terreno di una scuola e siamo presenti in una zona molto particolare lo Zambia è un paese molto grande siamo nella periferia della capitale Lusaka e in particolare in una zona che si chiama Kanyama un compound di 400 mila persone e dove non ci sono la corrente elettrica c'è i servizi igienico sanitario invece scarseggiano non ci sono strutture ospedalieri sono dei piccoli presidi e quindi ecco e all'inizio c'erano anche pochissime scuole quindi il vostro primo intervento avviene nel 2007 con l'apertura di questo istituto scolastico di questa scuola esattamente una piccola scuola una scuola primaria che ospitava all'inizio circa 60-70 bambini da lì il nostro intervento è cresciuto mano a mano oggi la struttura ospita 1061 ragazzi coprendo tutti gli ordini di grado della scuola quindi dal primo al dodicesimo è una cosa importante eccezionale poi le spiegheremo anche perché insieme ai tanti ragazzi vanno a scuola i bambini con disabilità e questo in Africa in generale in particolare in Zambia non è una cosa scontata perché il nostro intervento appunto cercano di includere i bambini con disabilità e permetterli consentirli di andare a scuola insieme agli altri in tutti i paesi lavoriamo insieme alla comunità attraverso dei progetti educativi e di sensibilizzazione per combattere lo stigma della disabilità fino a pochissimi anni fa le famiglie che avevano questi problemi insomma o comunque con dei bambini disabili in casa generalmente li tenevano nascosti fondamentalmente è un fatto culturale è un fatto culturale quindi i nostri interventi erano quelli di combattere lo stigma della disabilità e quindi lavorare insieme alle famiglie lavorare sulla comunità quindi si chiamano proprio programmi su base comunitaria perché è molto importante questo aspetto di sensibilizzazione perché non deve essere un intervento mirato fino a se stesso ma che deve garantire un cambiamento e un processo educativo che è molto difficile da realizzare chiaramente ma sul quale noi ci stiamo lavorando tantissimo quindi siamo partiti dall'istruzione e poi il secondo progetto e allora insieme all'istruzione chiaramente c'è il discorso alimentare e come dicevamo quindi le mense scolastiche che garantiscono chiaramente un livello di istruzione anche adeguato l'inclusione scolastica e poi arriviamo al settore sanitario questo perché perché lavorando appunto con i tanti disabili nelle varie zone e abbiamo cercato di capire quali potessero essere le cause no della di così tanti casi di disabilità e dalle nostre indagini è emerso appunto che la maggior parte dei bambini nascono con disabilità perché le mamme non hanno accesso delle cure adeguate sia durante la gravidanza che soprattutto nel momento del parto e quindi è proprio il momento del parto nelle settimane successive quindi dove è molto facile subire insomma delle infezioni o quant'altro che possono portare a delle disabilità piuttosto gravi quindi lavorare sulla prevenzione è diventato per noi una priorità bene allora parliamo adesso nel concreto di questo centro dedicato alla maternità lo facciamo con la coordinatrice di l'Africa Chiama Raffaella Nanini buonasera Raffaella buonasera grazie dell'invito allora questo progetto importante per questo centro dedicato alla maternità il perché lo abbiamo spiegato insieme ad Anita un progetto che è in fase conclusiva ma non troppo in fase di allestimento però noi vogliamo partire dall'inizio proprio da quando è iniziata questa bella e importante avventura sì questa avventura nasce in realtà diversi anni fa perché come ha spiegato Anita a Kaniama noi abbiamo avviato dal 2011 un centro sanitario una clinica si chiama clinica Shalom che appunto si occupa è una sorta di ambulatorio medico fondamentalmente a cui noi abbiamo dato proprio un indirizzo specifico sulla salute materno infantile è un centro sanitario realizzato dalla nostra associazione che in questo momento vede in qualche modo la cura di circa mille pazienti al mese soprattutto giovani donne giovani mamme è un centro quindi dove le mamme possono andare a effettuare delle visite prima del parto e effettuare poi un percorso di affiancamento proprio per i loro bimbi e ci sono infatti impiegate due ostetriche un medico un tecnico di laboratorio e due infermiere proprio diciamo così nell'esperienza di questo ambulatorio medico lo Shalom Center abbiamo visto che effettivamente mancava a Kaniama ci siamo resi conto della grandissima assenza invece di un reparto di maternità Kaniama ha un centro medico pubblico che però copre appunto una popolazione di circa 400.000 abitanti un centro medico dove sono presenti solamente 5 posti letto per il parto e dove è impiegato solo un ginecologo part time per questo motivo quindi per la grandissima carenza di strutture di personale sanitario circa 9 donne su 10 a Kaniama partoriscono ancora oggi in casa ovviamente mettendo a rischio la propria vita e la vita dei bambini appunto che stanno nascendo. In condizioni igieniche magari precarie proprio perché ecco l'ambiente casalingo non fornisce le adeguate soluzioni. No, considerando poi fra l'altro che parliamo di una zona periferica altamente degradata Kaniama è la zona periferica più grande di Dusaka della capitale ed è anche sicuramente quella più vulnerabile perché appunto ha un'assenza completa di servizi igienici, di sistema fognario, c'è l'elettricità ma purtroppo non arriva in tutte le abitazioni e quindi fondamentalmente parliamo di abitazioni che sono veramente in uno stato privo di qualsiasi dignità. Quindi nasce questo centro e le donne del posto come l'hanno accolto? Come hanno accolto questa iniziativa? Allora noi abbiamo posato la prima pietra a luglio del 2019, c'è stata per l'occasione una cerimonia importante dove hanno partecipato sia istituzioni locali perché lo ricordo perché è un aspetto fondamentale questo centro è stato ideato e progettato in strettissima collaborazione con il Ministero della Salute del governo Zambiano proprio perché l'idea è quella di avviare una struttura che possa in qualche modo vedere una forte collaborazione loro infatti il Ministro si è impegnato a fornire tutto quello che sarà il personale sanitario da impiegare nel centro quindi c'erano queste personalità ma in realtà il centro era popolato dalla comunità di Kaniama e soprattutto da giovani mamme, giovani donne. Per noi un aspetto fondamentale è quello di avviare dei progetti che siano di qualità, questo secondo me è un punto fondamentale quindi delle volte per le persone di Kaniama tutti gli interventi che abbiamo fatto c'è stata sempre quasi la sensazione da parte loro del dire forse non ce lo meritiamo perché lo vedono come effettivamente dei centri belli mi viene da dire perché comunque anche l'estetica, la bellezza, la pulizia di questi centri in qualche modo è per noi un modo per riconsegnare una dignità in fondo a queste persone quindi è bello vederli sicuramente orgogliosi di avere la possibilità di avere un centro di qualità Allora siamo nella terza fase se così si può dire, quella dell'allestimento del centro quella che prevede quindi la strumentalizzazione necessaria per garantirne l'efficienza Sì, io devo dire allora in questi anni, in un anno e mezzo abbiamo completato proprio in questi giorni stiamo completando tutta la realizzazione della struttura l'abbiamo potuto fare appunto raccogliendo una cifra importante grazie alla collaborazione dell'amministrazione e a tanti sostenitori privati appunto che ci hanno accompagnato come sempre fanno poi in questi anni abbiamo quindi raccolto più di 50.000 euro infatti proprio il costo della struttura è stata quella di 57.000 euro in questo momento dobbiamo attivarci per quella che sarà invece il reperimento di attrezzatura sia materiale di arredo, sempre di tipo sanitario sia proprio materiale biomedicale, quindi struttura e attrezzatura specifica che servirà appunto per il centro di maternità attiviamo da questo momento appunto questa raccolta fondi sarà una raccolta fondi che noi porteremo avanti su due livelli da una parte la raccolta fondi diciamo proprio in denaro perché effettivamente fondi ci servono e sono fondi che ci serviranno sia per inviare materiale sia per acquistare appunto materiale specifico biomedicale che effettivamente vorremmo acquistare appunto di prima qualità la seconda raccolta che attiveremo invece è quella che in qualche modo indirizziamo in questo momento a strutture sanitarie di qualsiasi tipo ma anche aziende del territorio per fare in modo che ci supportino invece nel reperimento di attrezzature materiale di arredo sempre specificatamente di tipo sanitario che potremo appunto inviare nei prossimi mesi direttamente all'USACA quello che quindi qui un po' vogliamo lanciare insieme all'amministrazione e all'assessorato del welfare di comunità è quella che è una gara di solidarietà fondamentalmente che ci serve per arrivare all'ultimo traguardo che speriamo si raggiunga proprio a primavera del 2021 con l'apertura ufficiale di questo centro di maternità che possiamo dirlo è un centro di maternità a Caniama che però porta veramente il timbro e il marchio di un'amicizia che è quella col comune di Fano Raffaella, chi volesse contribuire alla raccolta fondi in che maniera può farlo? Allora, ogni donazione che riceveremo sarà per noi un aiuto fondamentale potete quindi effettuare un bonifico oppure utilizzare un bollettino postale l'importante è specificarne la causale centro maternità Zambia e così sapremo che il vostro contributo qualunque esso sia potrà essere destinato direttamente a questo intervento concreto e mirato E a proposito di raccolta fondi essenziale la collaborazione del comune di Fano diamo il benvenuto e la parola all'assessore Dimitri Tinti Buonasera Buonasera, buonasera Maria Elena buonasera agli ascoltatori Sì, questo progetto è un progetto che ha un alto valore sociale che abbiamo sposato come diceva poco fa il sindaco ed è un progetto importante, molto concreto ci tengo anche a ricordare che è un progetto sul quale ha insistito molto Italo Nannini che con la sua gentilezza ma anche con la sua caparbietà ci ha fatto molto presente l'importanza di questo progetto e credo davvero che anche in memoria sua noi abbiamo anche come comunità di Fano anche diciamo un dovere morale di portarlo avanti e di vederlo concluso è un progetto davvero concreto, ben avviato manca poco per ultimarlo e noi come amministrazione l'abbiamo sposato come del resto abbiamo sostenuto in questi anni tanti progetti importanti di solidarietà che l'Africa Chiama ha saputo portare avanti e credo che davvero, visto che mi occupo di servizi sociali, di welfare di comunità che vuol dire appunto promuovere anche il benessere di una comunità credo che questa comunità, la comunità fanese sia davvero una comunità solidale l'ha dimostrato in tante altre occasioni e davvero può, come in tante altre può anche in questa dare un aiuto forte, concreto per sostenere e per dare la possibilità alle mamme di quel paese alle nuove mamme di poter partorire in condizioni igienico-sanitarie in condizioni civili, come magari appunto oggi invece purtroppo non è possibile e soprattutto poter fare in modo che tanti bambini in quel paese, in Lusaka davvero possano vivere un Natale sereno come lo viviamo e spero che lo viviamo appunto tutti noi credo che questo sia un investimento importante lo sosteniamo con forza e quindi ecco credo che Fano tutti i fanesi possano davvero dare una mano vera Grazie Assessore, grazie a tutti i nostri ospiti ringrazio Riccardo Sora in regia e tutti voi per l'attenzione vi auguro un buon proseguimento di serata con i nostri programmi grazie a tutti i nostri ospiti